Ben trovati innanzitutto, con tanti ci siamo visti ieri con la maggior parte di voi, come era giusto che fosse ieri c'era una giornata per darci gli auguri e quindi non per parlare di temi di attualità. Ci tenevo questa settimana, nell'ambito dei vari appuntamenti con voi, questa settimana a intervenire e fare due chiacchiere con voi per una serie di ragioni. La prima è che, in realtà, al di là di qualche commento post partita, che spesso mi viene chiesto da alcuni di voi, da un bel po' non affrontavamo questioni che attengono alla vita della società, la parte che attiene un po' meno al campo e che attiene un po' più a noi, all'organizzazione, ai progetti del club. Mi sembrava giusto farlo questa settimana, proprio all'indomani di una sconfitta che ci ha fatto rimanere male, per come è maturata. Quindi è giusto, secondo me, sia far vedere la figura del Presidente in questa settimana, perché viene dopo un risultato non positivo, e giacché appunto per affrontare due o tre questioni d'attualità. Prima una battuta sulla gara, visto che, dovendo parlare oggi, non l'ho fatta con nessuno di voi. Il mio pensiero è stato, tra l'altro, è stata la prima partita che non ho potuto vedere dal vivo quest'anno. Mi è dispiaciuto moltissimo per ragioni personali. Però la squadra si è comportata egregiamente. Secondo me ha disputato una grossa prestazione per larghi tratti. Avrebbe dovuto e potuto chiudere il primo tempo, forse, con due gol di vantaggio. Sicuramente abbiamo il demerito, nell'ultima parte della gara, di forse di esserci chiusi un po' troppo e di aver determinato quel sciagurato gol del 2-1, che forse ci ha condannato a una sconfitta immeritata, perché per larghi tratti della gara la squadra, a mio avviso, ha fatto benissimo e sta dimostrando di potersela giocare con tutti. E quindi metto al primo posto, ma io come l'allenatore, che in questo è ancora più, come posso dire, maniacale del sottoscritto, il fatto che negli ultimi minuti si poteva fare meglio. Ed è il punto da cui sicuramente partire, perché alla fine il risultato l'ha determinato il fatto che per una disattenzione finale non siamo riusciti a portare a casa il risultato. E quindi questa settimana si lavora duro e si lavora forte, perché dobbiamo cercare di evitare questi cali di tensione. E questo per me è l'aspetto più importante di tutti. In secondo luogo, e non rappresenterà mai un alibi per il Lecce, per la società che io rappresento, il fatto che abbiamo assistito questo oggettivo, e lo possiamo dire, a un arbitraggio che ci ha danneggiato. Ci ha danneggiato rispetto, a mio avviso, a un unico fondamentale episodio, che è stato quello della mancata espulsione di Tonali, nei primi minuti del primo tempo praticamente, ed è un episodio che a mio avviso lascia molto perplessi, perché era visibile, visibilissimo, è stato visto dall'arbitro, tanto è vero che ha dato una punizione che era solare. L'intervento era un intervento oggettivamente da ammunizione e quindi il calciatore, anche se eravamo nei minuti iniziali della gara, andava espulso. Punto. Ma non c'è spazio a nessun tipo di interpretazione perché andava espulso. A chi mi dice se ci facciamo sentire in Lega, non in Lega, noi abbiamo avuto una chiacchierata serena, anche se accesa, col designatore dopo la gara Pescara-Lecce, perché rappresenta a quella gara il designatore Morgante ad assistere a Pescara-Lecce, ci ho parlato io personalmente, e in occasione di quella gara dove due nostri giocatori sono stati espulsi e soprattutto la seconda espulsione era una conseguenza di una spallata, di una situazione nemmeno di gioco, non so nemmeno se era fallo, ma ci ha portato a rimanere in nove, il designatore mi ha detto che in quella gara l'arbitro era stato straordinario, che il giudizio dell'arbitro era stato altissimo e che le due espulsioni erano sacrosante perché frutto di due ammunizioni e la seconda ammunizione, così mi ha spiegato, si dà anche se una squadra sta in dieci e c'è la seconda ammunizione e la squadra rimane in nove, si dà così come, così mi ha detto, se una squadra nei primi minuti con lo stesso calciatore fa due falli di ammunizione va espulso anche nei primi minuti. Rispetto a questa spiegazione che mi è stata data e che io ho dovuto accettare, tra l'altro in quell'occasione sono stato anche squalificato, ma mi è stata data questo tipo di spiegazione, se la applico nella partita di Brescia-Lecce non mi ritrovo, perché quella spiegazione imporrebbe che in una partita altrettanto decisiva per noi, quanto è stata, com'è stata Brescia-Lecce al pari di Pescara-Lecce, con quell'interpretazione Tonali dovrebbe essere espulso. E io qui mi fermo perché non è mia intenzione andare a fare polemiche, però se la spiegazione che mi è stata data è quella per cui l'arbitro di Pescara-Lecce è stato qualificato e valutato come un arbitro che ha svolto una prestazione eccezionale, mi aspetto, che analoga valutazione per questo ragionamento non può avvenire rispetto alla partita di domenica, perché rispetto a un episodio più grave, molto più grave, del secondo giallo irrogato a Meccariello a Pescara, Tonali non è stato espulso. Senza polemiche, ma cercando di essere sempre molto chiari e molto oggettivi. E ribadisco ancora una volta che nonostante la mancata espulsione di Tonali si poteva tornare a casa con un risultato positivo se la squadra avesse avuto un atteggiamento più attento, più presente negli ultimi minuti della gara. Quindi senza zero alibi per nessuno, però le cose vanno dette. E noi continueremo a dimostrare la nostra posizione nelle sede giuste e nei toni giusti. Non faremo piazzate, non faremo interventi scomposti, continuiamo a pensare con convinzione che le cose vadano rappresentate in modo civile e nelle sede giuste. Vi garantisco che lo stiamo facendo. Questo sulla partita di domenica. Obiettivi. Sento dire, perché è un tormentone su cui adesso è bene chiarirci da subito, così sgomberiamo anche qui il campo. La squadra in questa prima parte di stagione, siamo quasi a metà campionato, sta facendo un campionato straordinario. Straordinario è stato il lavoro dell'allenatore che in pochi mesi ha reso squadra un gruppo di giocatori che non si conoscevano affatto. E' prima di lui il lavoro del direttore sportivo che li ha selezionati. E' straordinario anche quello che sinora hanno fatto questi ragazzi. Se andiamo a vedere le partite in cui abbiamo perso delle quattro sconfitte, nelle partite di Ascoli, Pescara e Brescia, le tre sconfitte sono state determinate, come dicevo prima, da nostri limiti ma anche da sempre da situazioni arbitrali che mezzo e mezzo ci sono andate tutte a sfavore. Su quattro sconfitte ci sono tre, sono non determinate, perché le abbiamo determinate noi, riparisco, ma ci sono delle prestazioni arbitrali che sicuramente ci hanno danneggiato. Questo vuol dire che la squadra è una squadra all'altezza, che sta facendo qualcosa di straordinario e che, come ho detto più volte, così scomberiamo il campo da ogni equivoco, è già di per sé una squadra, questo gruppo di lavoro che ha la possibilità, laddove partendo dalla partita di domenica contro il Padova, ha già una specie di primo match point per la salvezza, perché battere il Padova, che partecipa a questo campionato come neopromossa al pari del Lecce, rappresenta una gara che ha un doppio valore, è un match point per la salvezza, ma può essere anche una gara che ci può proiettare verso ragionamenti più ambiziosi. Ragionamenti più ambiziosi che non ci spaventano, ma che non abbiamo affrontato per la solita onestà intellettuale che ci caratterizza, ma non è che questo vuol dire che ci tireremo mai indietro. Domenica abbiamo una partita che ha un doppio valore, è la gara per mettere un'ipoteca sul discorso salvezza contro una diretta concorrente per la salvezza ed è un trampolino per poter ragionare su obiettivi più importanti. Che non nominiamo e non sventoliamo, non perché non li abbiamo o non ci pensiamo o non ci piacerebbe averli, ma perché non è serio farlo oggi. Laddove si dovesse girare con un numero di punti non lontano da quelli che abbiamo già racimolato, è chiaro che è giusto, come ha incominciato a dirlo anche l'allenatore, fare ragionamenti di differente natura. Perché pure se non era nella programmazione di questa società immaginare di fare da subito un campionato di vertice e chi lo sa una possibilità su 100 di andare su, nel momento in cui questa possibilità su 100 dovesse esistere concretamente, sarebbe da pazzi non provarci, quindi non voglio più sentire storie, la società vuole salire, non vuole salire al primo pareggio, è fantascienza, è fantascienza. Non è pronta per la... tutte le neopromosse che vanno in A nel 99% dei casi le trocedono, non c'è un modo per arrivare in A con la garanzia di salvarsi. Quindi se uno arriva, arriva e intanto porta patrimonio al club perché la Serie A porta patrimonio in termini numerici che un club, anche se dovesse poi rirretrocedere, ne ha beneficio per i successivi 3-4 anni. Quindi sgomberiamo proprio il campo tra risorse che si prendono in A, paracadute che si prende se si retrocede, cerchiamo di... su questo di essere chiarissimi. Rispetto a tutto questo, così anche qui sgomberiamo il campo, come club pensiamo che questo gruppo vada preservato e quindi parlare di calciomercato, di innesti, 4-5 innesti, eccetera, eccetera, sia sbagliato e sia un modo di mancare rispetto a questo gruppo che ha fatto cose straordinarie. Però questo non vuol dire che lasciando inalterato un gruppo che sta facendo benissimo, non si possa intervenire laddove ce ne sia la necessità aumentando su posizioni specifiche e molto mirate la qualità, senza nessun tipo di rivoluzione e senza rinnegare niente del lavoro che è stato fatto e senza non rendere merito a tutti i protagonisti di questa fase della stagione. E sotto questo punto di vista il club ci siamo anche riuniti nei giorni scorsi per dare disponibilità al direttore sportivo e all'allenatore al momento giusto, se fosse necessario, a fare un ulteriore sforzo. Che sia, purché sia mirato, migliorativo e purché garantisca l'integrità di questo gruppo che è al primo posto. Altra considerazione un po' più di natura tecnica, poi vi lascio alle vostre domande. Le neopromosse nel campionato di serie B vengono considerate dall'attuale, chiamiamola normativa, degli oggetti misteriosi. Siccome non si sa la forza e la solidità dei club che dalla C vanno in serie B, si chiedono alle neopromosse, ci sono una serie di regole che impediscono alle stesse praticamente di fare mercato. Perché oltre alla fideiussione iniziale si chiedono solo alle neopromosse di dover garantire ogni operazione di mercato che viene fatto. Perché voi sapete bene che in serie B non si può spendere di più di quanto si produce. Siccome però le società neopromosse non hanno uno storico, non si sa quanto produce il Lecce in serie B o il Livorno, si utilizza un numero convenzionale che è bassissimo. Si dice che il Lecce per noi in qualità neopromossa produce TOT e il primo anno funziona così. Un numero convenzionale è basso, quindi non puoi spendere più di TOT, anche se non è un numero che corrisponde alla realtà. Se vuoi spendere più di quella cifra, devi garantire tutti gli emolumenti con un'ulteriore fideiussione. Ora noi abbiamo deciso alcuni mesi fa di intraprendere questa politica, credo che siamo l'unica delle neopromosse che ha scelto questa politica, di sforare questo limite convenzionale e questo ci ha comportato in questi giorni oltre alla fideiussione per iscriverci al campionato, la prima. Oltre alla fideiussione per coprire lo sbilancio nel conto trasferimenti, perché il nostro conto trasferimenti è in passivo, perché abbiamo comprato e non abbiamo ceduto nessuno. Abbiamo fatto operazioni a titolo oneroso. A volte sento dire che il club ha comprato tutti i giocatori a costo zero e mi sale la pressione a 200. Abbiamo comprato la Mantia, abbiamo comprato Lucioni, abbiamo comprato Falco. Sono tutte operazioni di mercato che abbiamo dovuto garantire. Non solo, siccome sforiamo quel parametro che riguarda le neopromosse, adesso la Lega ci chiede una terza fideiussione di oltre 2 milioni di euro bancaria, che abbiamo appena fatto, perché questa società sta cercando di fare degli sforzi che a volte, non dico ricordare, ma almeno far conoscere, perché magari non si sanno. E quindi oggi io ve lo volevo raccontare questo. Questo non vuol dire che ci sono squadre che spenderanno il triplo rispetto a noi e stanno sotto in classifica, questo non vuol dire niente. Però serve per dire che, pur essendo una neopromossa, questa proprietà sta facendo degli sforzi importanti. Con giocatori di proprietà, abbiamo uno o due prestiti e, quale che sia il risultato sportivo di quest'anno, se dovessimo salvarci, a fine anno avremmo un organico di proprietà su cui probabilmente poter ripartire. Ecco perché quando vi dico che la salvezza è un obiettivo perché bisogna essere umili e da raggiungere, però è vero pure che, da un punto di vista dell'impegno economico-finanziario, è giusto pure pensare a qualcosa di più. Presidente, a proposito di questa box popoli per cui la società non potrebbe sentire perché è non pronta, lo stadio, eccetera, basterebbe citare forse le cifre che sono anche più o meno di dominio pubblico. È vero che tra promozione e eventuali paracadute comunque saremmo ragionato di almeno 7 milioni di euro? Una neopromossa in serie A prende per affrontare la stagione una cifra che si aggira intorno ai 30-32. E il paracadute, laddove dovesse retrocedere, sono altri, ora è stato un po' ridotto, ma si aggira intorno ai 20 milioni. C'è un'operazione di 50 milioni. 50-50 milioni e chi non potrebbe andare? Quindi la risposta è quella. E poi un'altra domanda, Presidente. La compagine societaria che sta facendo fronte anche a questi ulteriori adempimenti che vengono chiesti, è una compagine blindata o ci potrebbero essere non chiesti? No, allo Stato il gruppo è quello, è blindato. È un gruppo che sta facendo, scusate se sono ripetitivo, però poi quando parliamo penso, per esempio una cosa che non vi ho detto è che abbiamo chiuso il bilancio dell'anno scorso e c'è stata una perdita, che è stato il prezzo per poter andare in serie B, una perdita di 5 milioni di euro. Quindi un disavanzo tra entrate e uscite di più di 5 milioni di euro. Questa perdita è stata già interamente versata pro quota da tutti noi soci. Già interamente versata e l'ultimo versamento è venuto pochi giorni fa. C'era ancora un po' di tempo per poterlo fare e invece è stata già versata. Speriamo che quest'anno sia un po' meno dolorosa la perdita, però già vi ho detto che per come abbiamo impostato la stagione con questa rivoluzione che c'è stata di giocatori, anche questa è una stagione che da un punto di vista finanziario si presenta per noi faticosa. Infatti già abbiamo dovuto adempiere con ben, ripeto, tre fidei usioni. Anzi quattro, perché c'è stata fatta sostituire quella di Finvord che però poi ci hanno detto che era valida, ma noi nel frattempo l'avevamo già sostituita. Quindi siamo a quattro. Poi abbiamo chiusura con la Tese, quindi dopo la Wefa in Brescia per quel discorso, con il Io ricordo che il mister ha detto possiamo essere ambiziosi nel momento in cui riusciremo a girare 30 punti, lo disse circa un mese fa, è un obiettivo ancora raggiungibile secondo me, poi 30-29 siamo là per poter essere ambiziosi è quello, quello che mi preme molto è che la partita col Padova è una partita che ha come dicevo prima un doppio valore perché viene contro la nostra concorrente, significherebbe staccare quel gruppone e aver ipotecato quel giro di boa con un numero di punti che sinceramente era impensabile perché sia chiaro, questo lo voglio ribadire, è vero i sacrifici della società, è vero le risorse importanti messe a disposizione, ma è vero pure che questo gruppo ha fatto molti più punti di squadra che costano ben più di noi, quindi non voglio in nessun modo sminuire i meriti tecnici dell'allenatore, del suo staff e dei ragazzi, oltre che dell'ottimo operato di Meluso nel calciomercato, sono cose differenti, però era giusto dirle nel loro effettivo valore e consistenza. Per questo discorso economico lei faceva, questo bilancio, dovrebbe dare anche gli straordinari per cercare dei piedi di monti e stipendi, che è valida che comunque non può spazio, immagino? Certo, questo è giusto, infatti ti ringrazio perché questo è un altro spunto, abbiamo un calciomercato che come detto se per le operazioni in entrata potrà essere un calciomercato molto mirato e limitatissimo nel numero di persone, chiaramente chi ha trovato poco spazio o niente probabilmente d'accordo con la società dovrà immaginare di trovare una sistemazione altrove e quindi questo. Già che approfitto, visto che parliamo di mercato, per sgomberare un altro grande equivoco che è il tema di Mancosu, così ne parliamo in maniera chiara senza giri di parole. Mancosu è un ragazzo straordinario, è attaccatissimo a Lecce e gli ho visto fare in questi tre anni di permanenza a Lecce cose incredibili, non solo, parlo di prestazioni da un punto di vista tecnico, ma lui ha giocato in tutte le condizioni, con infortuni, febbre, non si è mai tirato indietro, quindi è uno che ha sempre dimostrato con i fatti e non con le parole attaccamento alla maglia. Ora non so chi ha deciso in questo momento storico, ben prima che inizi il mercato, bisogna riempire, e non parlo di voi, non parlo dei giornalisti. Però c'è qualcuno che in questo momento sta facendo circolare rispetto a Mancosu interessamenti da parte di tutto il mondo. Io non credo che sia una strategia che faccia bene al ragazzo, chiunque la stia facendo e non voglio entrare nel merito, non è una strategia che fa bene al ragazzo, perché il ragazzo è un ragazzo serio, è un ragazzo che ha dimostrato di essere attaccato a Lecce. Posso dire con certezza che né il direttore sportivo meluso, né il club è stato mai contattato da nessun altro club per Mancosu, e posso dire con altrettanta certezza che per noi non è assolutamente tra i giocatori cedibili, è un giocatore protagonista. Perché possa succedere quello che per me oggi è impensabile, devono avvenire due cose. Uno, che sia un domani il giocatore che ci venga a dire che vuole andare via per un'occasione magari irripetibile della sua carriera, e non ci sarebbe nulla di male, ma deve essere davvero irripetibile per la sua carriera, perché se no non me lo spiegherei. E in secondo luogo chi lo vuole deve venire da noi, perché il calciatore, a differenza anche qui di quello che qualcuno sta facendo circolare, ha un contratto sino al 2020, non sino al 2019, non è un giocatore in scadenza. Lui ha un contratto attualmente sino al 2020. Noi abbiamo previsto per molti giocatori che hanno un contratto lungo, anche dei contratti importanti per la Serie B come lui, abbiamo preferito una cosa differente, che in caso di retrocessione del Lecce in C, questi contratti automaticamente si risolvono, che è una cosa che il club ha fatto a garanzia della propria stessa esistenza per non trovarsi in caso di retrocessione 30 contratti insostenibili, che è una cosa molto diversa. Però se oggi qualcuno vuole sapere la durata del contratto depositato in Lega di Mancoso, il contratto di Mancoso scatta nel 2020. E quindi chiunque ha intenzione di parlare con Mancoso deve parlare con noi, perché non è un contratto in scadenza. La situazione di Padarino, lui era contrattualizzato per la stagione scorsa, era regolarmente contrattualizzato. Poi il suo contratto prevedeva che in caso di promozione in B vi fosse un prolungamento automatico. Lui ha inteso far valere questo prolungamento, pur non essendo stato il nostro allenatore nella stagione passata, e noi ci siamo opposti. C'è un contenzioso allo stato pendente e quando ci sono contenziosi di questo tipo, voi come sapete un club deve pagare tutti i suoi tesserati. Se non paga un tesserato prende punti di penalizzazione. Abbiamo chiesto autorizzazione alla Lega se, nell'attesa della definizione del contenzioso, noi potevamo non pagare il calciatore. E la Lega, se ritiene che il contenzioso non è un contenzioso pretestuoso, autorizza il club in attesa che il giudice ci esprima. Quindi la Lega nel caso di Padalino ci ha autorizzato a non pagarlo. Quindi noi in questa stagione non abbiamo pagato tutta la stagione scorsa, in questa stagione non l'abbiamo pagato e siamo in attesa di sapere che cosa deciderà il collegio arbitrale se questo rinnovo si è verificato o meno e se lui ne beneficia o meno. Ovviamente la causa, se prima era stata fatta per un intero anno, oggi è limitata ai sei mesi che sono passati dall'inizio stagione a oggi perché Padalino pochi giorni fa ci ha mandato la sua rescissione unilaterale perché probabilmente si sta accordando con un altro club. Quindi il rapporto con lui è finito pochi giorni fa. Bisogna capire se questi sei mesi esistono davvero o se sono... Il rapporto è chiuso perché le normative consentono all'allenatore eventualmente esonerato, sotto contratto ma per noi non è sotto contratto, ma se lo fosse stato consentono unilateralmente di liberarsi all'allenatore esonerato. E quindi oggi deciderà il collegio arbitrale se gli sono dovute le sei mensilità che quest'anno sono state maturate o meno. Così è. Ma la verità alla fine, no? Inutile fare giri di parole. La verità alla fine è quella. Se ci sono... Breve domande, credissime. Sì. Uno riguarda l'organigramma della società. Sì. Sembra che il consigliere, anzi dice che il Presidente si sia dimesso e si è traurato il consigliere. Possiamo avere notizie più certe? Questa è la prima domanda. Seconda, lei fa parte dei quattro settori del nuovo, grafica quello della governo e razza. Sì. Che situazione è? Cosa sta... Cosa si sta ponendo in questo luogo? Allora, da un punto di vista dell'organigramma societario, già da un po' di mesi si è dimesso il professore Stefano Adamo, ma siamo in totale sintonia, amicizia con il professore Adamo, che diciamo lui era l'unico componente del CDA non socio, perché era un tecnico e un tecnico che ci ha dato una grandissima mano. Poi per una serie di impegni universitari, diciamo, presenti e gli auguro futuri ancora più importanti e quello che vivamente gli auguro ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Ripeto, c'è un rapporto straordinario con lui, siamo colleghi di facoltà, ci vediamo sempre e ci vogliamo molto bene. Io non posso che ringraziarlo perché in questi primi anni nel Lecce lui ha lavorato a tempo pieno per noi gratuitamente e abbiamo potuto avvalerci di un tecnico di altissimo livello che da subito ci ha messo i numeri a posto. Non escludo le dimissioni, non fa parte più dell'organigramma, ed è entrato Dario Garofalo da qualche giorno, da un po' di tempo. Ora vediamo perché a dicembre scade il collegio sindacale e può darsi che ci sarà qualche novità sia nel collegio sindacale che nel CDA, ma questo non significa che ci saranno novità nella composizione dei soci che sono sempre quelli, con le quote che voi sapete, vi ho detto dove c'è De Picciotto che ha la quota del 30%, è quello che abbiamo detto. Io subito dopo con il 24% e poi le altre quote sono tutte intorno al 18-20%. Garofalo, Livori, Adam, queste sono le cinque persone che fanno parte del club e tutti quanti noi partecipiamo, come vi dicevo prima, pro quota in questo momento alle esigenze economiche che il club ha. In questi nostri anni di gestione sono stati anni tutti quanti purtroppo con il segno meno in bilancio, ma era una cosa che si poteva immaginare in Serie C e lo sarà anche quest'anno in Serie B perché abbiamo attuato prima del tempo la rivoluzione di cui vi parlavo prima che avrà questo costo. Sperando che poi in futuro vediamo sul format, oggi si discute del format, se sarà una B a 20 squadre come pare o se c'è addirittura un'idea di portarla eventualmente a 18 e a renderla ancora più sostenibile per i singoli club. Sul tavolo abbiamo fatto solo due riunioni, sono ancora argomenti abbastanza riservati all'interno del club, del tavolo tecnico, quindi chiaramente non voglio anticipare niente, però ci sono una serie di idee interessanti, sono nel tavolo della governance e quindi è quello che va a stabilire la politica organizzativa della federazione, ma abbiamo fatto una sola riunione preliminare, quindi non sarei nemmeno legittimato a raccontare quello che è accaduto. Sulla questione del stadio abbiamo avuto una riunione in prefettura questa mattina e non vi nego che è una preoccupazione che abbiamo, seria, perché c'è questo problema dell'agibilità dell'Aes che sarà sino a fine anno e non pare che ci siano spazi per ottenere ulteriori proroghe. Credo che anche il Comune sia in una situazione finanziaria molto complicata per far pronte a interventi di straordinaria amministrazione, non è mistero che la situazione del Comune in questo momento sia questa e la situazione è un po' di stallo. Stiamo ragionando su un'idea di cui poi vi parlerò nei prossimi giorni, nel momento in cui potrebbe decollare, però con il credito sportivo abbiamo iniziato un ragionamento importante, ci saranno una serie di sopralluoghi nei prossimi giorni e un matrimonio che si può fare ovviamente dove il ruolo fondamentale oltre il credito sportivo che è interessato e che verrà proprio nei prossimi giorni qui a Lecce per delle verifiche è fondamentale come voi sapete per come lavora il credito sportivo il ruolo dell'amministrazione, la volontà dell'amministrazione di procedere a un nuovo stadio dove i principali investitori poi sarebbero in parte reclutati proprio dallo stesso credito sportivo ed eventualmente ne farebbe parte anche il club se lo ritiene ma non è condizione necessaria quello di essere parte degli investitori. Però di questo magari faremo, se decolla, faremo una conferenza che sia proprio dedicata e approfondita. Grazie Presidente. Grazie a voi.